Eccoci ad un nuovo appuntamento. Oggi torno a parlarti di ansia ed in particolar modo voglio sfatare 5 false convinzioni su questo argomento. Ciao, io sono Angelo e sono uno psicologo. Nel mio canale ho trattato il tema dell'ansia già in altri video. Oggi però ho scelto di riprendere questo argomento per sfatare alcune convinzioni che ancora persistono su questo tema. Infatti, nonostante l'argomento dell'ansia sia sempre più trattato e sia uno dei disturbi più frequenti, persistono ancora oggi falsi miti su questo problema. Lo scopo del video di oggi è quello di spiegarti che cos'è l'ansia, per capire bene di che cosa stiamo parlando, e poi ti illustrerò e sfatterò 5 false convinzioni. Ma prima di andare avanti, ti ricordo che se sei appassionato di psicologia, se ti piace la crescita personale e vuoi conoscere tante strategie utili per migliorare le tue relazioni, mi raccomando, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina del notifico. Così non perderai nessun video. Se poi vuoi aiutarmi a fare divulgazione psicologica, condividi il video con le persone che ritieni interessate. Ma adesso entriamo nel vivo del video e cerchiamo di capire che cos'è l'ansia. Ho risposto in maniera più ampia ed esaustiva a questa domanda in un altro video. Se lo hai perso, ti lascio il link giù in descrizione. Quando si parla di ansia, spesso si pensa alle fobie, ai disturbi, ai limiti, ai problemi, alla sofferenza. In realtà l'ansia è l'attivazione psicofisica che abbiamo dentro di noi quando percepiamo un pericolo. È fondamentale riconoscere quindi che l'ansia è il nostro campanello di allarme. Quando percepiamo una minaccia, percepiamo che un evento può andare ad intaccare la nostra incolumità, dentro di noi si attivano tutte le risorse necessarie per affrontare il pericolo o evitarlo. In quel caso parliamo di ansia. Quindi l'ansia in realtà è un meccanismo di autotutelo, è un meccanismo che serve a tutelare la nostra incolumità. Ma dopo aver chiarito che cos'è l'ansia, andiamo a sfatare le cinque false convinzioni che ancora persistono. La prima è che l'ansia è sempre sbagliata. Molte persone associano, come ti ho detto prima, il termine ansia a patologie, a fobie, a disturbi. In realtà, come potuto capire dalla definizione precedente, l'ansia non è sempre patologica. Anzi, l'ansia è un meccanismo sano che ha lo scopo di tutelare la nostra incolumità. Dire che l'ansia è sempre sbagliata significa non conoscere in realtà l'argomento. Sicuramente noi possiamo avere un'ansia patologica, un'ansia non sana, un'ansia limitante. Ma noi possiamo anche avere un'ansia sana. Specifico questi aspetti ogni volta che comincio una psicoterapia. Perché alla mia domanda, quali sono i tuoi obiettivi per questo percorso, molte persone rispondono non voglio provare più ansia. Questa è un'idea irrazionale. Perché in realtà l'ansia è un meccanismo di allerta che ci tutela, che ci salvaguarda. Io, ironicamente, dico ai miei pazienti che noi oggi siamo qui perché i nostri genitori della preistoria avevano ansia. Se loro non avessero avuto questo campanello di allerta, molto probabilmente non sarebbero stati in grado di affrontare i pericoli, non sarebbero stati in grado di superare le difficoltà. Ma, qual è la differenza tra ansia sana e ansia patologica? Come ti ho detto prima, l'ansia è l'attivazione psicofisica che avviene dentro di noi quando percepiamo un pericolo. L'ansia sana c'è quando la nostra percezione corrisponde ad un pericolo reale. Ad esempio, io mi trovo di notte a passeggiare in una strada e davanti a me incontro un cane feroce. In quel caso il mio campanello di allarme si attiva sanamente perché la mia percezione corrisponde a un pericolo reale. In questo caso il mio corpo attiva quelle risorse che hanno lo scopo di tutelarmi, di salvaguardarmi dal pericolo. Invece può accadere che il mio sistema di allerta si attivi quando vedo un chihuahua tenuto al guinzaglio. In quel caso la mia percezione di pericolo non corrisponde alla realtà. Il mio campanello di allerta si è acceso senza un reale pericolo. In questo caso cominciamo a parlare di ansia patologica. La seconda convinzione è che devo evitare le situazioni temute. L'evitamento può diventare una vera e propria trappola invisibile. Ne è testimonianza Francesca che mi ha chiesto aiuto perché ormai la sua vita era relegata alla sua abitazione. Mi racconta che la sua paura era cominciata con i supermercati. Aveva timore di andare al supermercato. Per diminuire la sua ansia, per evitare di stare male, cominciò ad evitare i centri commerciali. Con il tempo però la sua ansia si manifestò anche in altre situazioni sociali. Non riusciva a andare più nei pub, nei ristoranti, frequentare gli amici. Ad un certo punto l'evitamento aveva cominciato a limitare la sua vita. Molte persone pensano che l'evitamento sia un'ottima strategia per evitare la sofferenza. In realtà, se da un lato l'evitamento diminuisce drasticamente e velocemente l'ansia, dall'altro però irrobustisce i pensieri irrazionali, irrobustisce e ingigantisce i pensieri di incapacità che spesso sono alla base dell'ansia. Evitare le situazioni temute è la strategia migliore per farsi governare dall'ansia. Un'altra convinzione molto frequente dice che se mangi in maniera salutare e faccia attività fisica, i miei disturbi d'ansia scompariranno. Questa convinzione è legata spesso all'idea che l'ansia sia una conseguenza di una vita sregolata. Ciò non è assolutamente vero. Le radici dell'ansia sono da rintracciare nelle nostre convinzioni, nel nostro modo di vedere la realtà, nei nostri pensieri più profondi. Sicuramente fare attività fisica, mangiare in maniera salutare, evitare di bere sostanze eccitanti come il caffè, può far bene alla nostra qualità della vita. Abitudini salutari possono diminuire enormemente il nostro livello di stress. Ma questo non significa che automaticamente scomparirà anche la nostra ansia. Le abitudini salutari possono essere di grande aiuto, ma non sono una strategia risolutiva. Un'altra convinzione molto frequente sostiene che una persona può smettere di essere ansiosa. Ho sentito queste parole molto spesso ripetute dai familiari di persone ansiose. Vi è l'idea che una persona scelga di preoccuparsi, scelga di stare in ansia. Questa convinzione è spesso la conseguenza di una non conoscenza del problema. Dire a se stessi di non preoccuparsi può essere di aiuto momentaneamente. La persona può diminuire lievemente e momentaneamente il proprio livello di ansia, ma col tempo questo si ripresenterà. È fondamentale capire che il sistema di allerta si attiva a causa dei nostri schemi di pensiero. E nella terapia cognitivo-comportamentale si fa proprio questo lavoro. Si vanno a rintracciare quei pensieri sabotanti, quei pensieri ansiogeni che sono alla base del problema e poi li si va a cambiare. Per superare un disturbo d'ansia abbiamo bisogno di tempo, costanza e delle strategie adatte. L'ultima convinzione che voglio presentarti sostiene che l'ansia e la depressione non siano correlati. Se da un lato è vero che le caratteristiche dei disturbi d'ansia e dei disturbi depressivi sono totalmente diversi, dall'altro è anche vero che possono influenzarsi a vicenda. Capita molto di frequente che le persone che soffrono di un disturbo poi soffrono anche dell'altro problema. In questo caso è fondamentale indagare qual è il problema primario, qual è il problema che ha dato inizio alla sofferenza. Può accadere infatti che persone che soffrano di ansia col tempo cominciano a sentirsi impotenti, incapaci, di non essere più padroni della propria vita. Questo può dare adito a sintomi e pensieri depressivi. Spero che questo video ti abbia aiutato a capire che cos'è l'ansia e a sfatare false convinzioni. Se hai delle domande su questo argomento puoi tranquillamente scrivere nei commenti. Ti ricordo poi di seguirmi anche su Instagram e su Facebook e mi raccomando, guarda questo video sugli atteggiamenti che ti rendono ansioso. Qui invece puoi iscriverti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.